Bene, abbastanza bene. Adesso ho fatto la prima partitela senza problemi e adesso speriamo di entrare a disposizione del mistero e della squadra. L'importante era iniziare a lavorare, adesso penso che non è stato tanto tempo fermo e credo che seremo già a disposizione per il mistero per la partita di domenica. Dopo più passi nell'allenamento penso che si ritroverà la forma piena, speriamo di stare velocemente al 100% che arrivano partite importanti per noi. E' bravo, questo è un momento importante e credo che abbiamo queste ultime settimane diciamo lunghe, senza partita, mezzo della settimana e questo ti fa recuperare quelli che in questi casi eravamo fortunati, ti fa lavorare bene per arrivare velocemente in forma e stare tutti insieme per questi mesi di febbraio che arriva che sarà difficile. Sì, è un campo difficile, l'Atalanta è una squadra tosta, difficile, non dimentichiamo che è andato male con loro qua a San Siro, allora noi dobbiamo pensare che dobbiamo andare per continuare a guadagnare dei punti importanti per la nostra classifica.